La cucina è una parte importante della nostra identità. Ci accompagna nella nostra crescita, lasciando un'impronta indelebile nella nostra mente e nel nostro cuore. Cucinare è cultura, condivisione, tradizione e scoperta. Cucinare è un'arte dei mille sapori e colori. E il cibo diventa ricordo quando gusto e profumo riportano indietro nel tempo, rievocando immagini e sensazioni. Anche se il tempo passa e spesso cambiamo città, vita, in Europa sappiamo che il cibo è una grande cultura che tutela i prodotti tipici locali e ci tiene vicino alle tradizioni. Quelle tradizioni che riescono a conservare i sapori e le emozioni anche a distanza, facendoci ricordare di quella che, anche se lontana, sarà per sempre casa. L'Europa ha un volto, il tuo, e stavolta, Voto. L'Europa ha un volto.